Voglio ringraziare velocemente l'amministrazione comunale e il sindaco che ha sostenuto questo concerto e voglio ricordare le conquiste passate. Un secolo di lotte per acquisire il diritto allo studio, al lavoro, al voto, a partecipare alla vita pubblica. Diritti inalienabili, i toccabili che ancora non sono patrimonio di tutte le donne nelle varie società, anche quelle più evolute, in cui non sempre questi diritti vengono rispettati. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.